Mio padre già faceva il partigiano quando non usava, andava nei ritrovi alla sera, nei seccatoi, c'erano dei seccatoi che si chiamavano Trentapere, un bosco che si chiamava così, c'erano questi seccatoi di montanari, che d'inverno non c'era nessuno, allora andavano lì dentro. Quindi ha detto che si trovavano già prima del regime, il suo padre? Sì, prima del regime fascista è cominciato nel 22, non so quando è cominciato, nel 22 è cominciato, no beh allora nel 28, nel 30 mettiamo, io sono nata nel 28 per essere già una bambina, perché loro poi ti indirizzavano, tu sapevi che andavi là per dire al buco del signore, andavi là, c'era quella famiglia, poi tornavi indietro, non so neanche come dire, ecco non è che, anche se si era piccoli, noi eravamo già in grado di spostarsi, perché in montagna tutti questi sentirini ti portavano in fretta la prima casa. Poi c'era un'altra famiglia, i miliari, che abitavano poco lontano da noi, ed era proprio, non ha fatto neanche battezzare i suoi, era proprio un antifascista, era stato in, mi sembra in America, lavorare così, e allora, sa, con mio padre, poi c'era, perché voi non conoscete, c'era il papà dell'onorevole Nello Lusoli, e anche lui era proprio, era proprio uno di quelli che andava lì con mio padre, andavano in questi seccatoi alla sera e si trovavano, non so di cosa parlavano, perché io poi allora, ma io so proprio, davvero già da bimba andare a dire a questo, quest'altro, o magari stasera ci troviamo, il papà stasera viene, così, loro sapevano già dove ci dovevano trovare, ecco in questi posti. No, lì ce n'era degli ebrei, lì da, lì a Marola era venuto un signore molto bravo, che frequentava tanto la nostra casa, perché c'era anche un ragazzo giovane, della bravissima gente, aveva fatto una bella casa, lì a Marola, però noi non abbiamo mai avuto a che fare con nessuno, dopo io invece quando sono stata via, invece io sono stata tanti anni con gli ebrei, dieci anni, proprio d'estate, d'inverno, io avevo, siccome lavoravano in un ristorante, allora venivano, venivano proprio a far campagna d'estate e d'inverno, proprio per me erano tutti brava gente, poi dopo io altre cose, non saprei cosa dire per gli ebrei, proprio perché c'era una famiglia qui a Reggio, che poi ha detto, veniva in casa dei miei zii, dove io andavo a prendere sempre le informazioni, e quelli lì poi un giorno dice, dobbiamo andare via, avevano un negozio di mobili, secondo me hanno chiuso tutto, poi ha detto, noi dobbiamo andare via, ma allora io non pensavo, non sapevo perché gli ebrei scappassero così. Quindi non se ne rendeva ancora... No, io poi non se ne parlava, perché sa, gli ebrei, poi noi in montagna, noi abitavamo Marola, non eravamo in città, io venivo spesso in città perché mia madre è proprio nata in via Emilia San Pietro, è nata proprio a Reggio.